in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli io sono la vite vera e il padre mio è l'agricoltore ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato rimanete in me e io in voi come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite così neanche voi se non rimanete in me io sono la vite voi i tralci chi rimane in me e io in lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca poi lo raccolgono lo gettano nel fuoco e lo bruciano se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi chiedete quello che volete e vi sarà fatto in questo è glorificato il padre mio che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli rimanete in me sembrerebbe uno di quegli imperativi stonati per quelle che sono le ambizioni di libertà costitutive dell'uomo come se gesù ci volesse solo per lui a lui incatenati in una stanza qualsiasi della sua casa condannati a un carcere eterno in realtà lo sappiamo bene l'uomo non ha mai ascoltato i consigli di dio e ha sempre fatto di testa sua come il figlio minore del vangelo ha deciso di andarsene e se ne è andato e dio glielo ha sempre permesso no il rimanete in me non è un imperativo obbligante non è il bloccare le nostre spinte autonome gli slanci la creatività che contraddistinguono l'uomo e la sua natura evolutiva il rimanete è come dire per favore aspetta qui davanti a me ti sto facendo più bella di quello che sei non temere ti sto plasmando per il tuo bene per la tua felicità non scappare l'esempio più lampante che mi viene in mente è quello dello scultore sappiamo che fra tutte le arti la scultura lavora per sottrazione piuttosto che per addizione se pensiamo alla musica pensiamo a tante note che si aggiungono a un pentagramma o a suoni che si aggiungono al silenzio se pensiamo al disegno pensiamo a foglie o superfici che vengono colorate e quindi riempite e a noi diciamocelo ci piace essere riempiti mascherati truccati vestiti non ci piace invece essere spogliati denudati privati ecco invece lo scultore fa proprio questo toglie qualcosa e lo fa con colpi decisi di scalpello lo scultore pota come il vignaiolo lo scultore ti priva di qualcosa a colpi continui di martello ma se lo fa è perché vede la scultura dietro il blocco di marmo o come mastro geppetto vede già pinocchio nel ceppo di legno ecco dio vede quella meravigliosa creatura che siamo noi dentro l'umanità di cui siamo stati plasmati per questo ci dice rimanete nel mio amore stai fermo piccolo non vedi che sto facendo di te quello che sei veramente che stai fermo piccolo non vedi che sto facendo di te